molto bene e ora andiamo avanti con un'intervista fatta a Fabrizio Colarieti che è uno dei principali autori del sito stragi80.it nel quale sono conservati file audio file video documentazione tutta l'istruttoria del giudice priore è un sito fondamentale per chi vuole capire per chi vuole conoscere, per chi vuole andare a fondo e non solo fermarsi a una mera superficialità delle cose andare a fondo nei fatti ecco Fabrizio Colarieti nel suo lavoro fatto di anni e anni pazienti di raccolta di documenti audio video testimonianze articoli di giornale ha avuto la possibilità di propugnare una verità che tutti noi stiamo sostenendo ormai da 40 anni lascio perciò la parola a Fabrizio l'informazione giunta pochi minuti fa sarebbero stati persi i contatti radio con un 19 dell'Italia in volo tra Bologna e Palermo il mio interesse per la strage giustica nasce da ragazzino proprio durante le scuole vedendo in tv il film il muro di gomma poi questa cosa qui si è avvicinata di molto anche alla mia professione la parte iniziale della mia professione quindi ho cominciato a scrivere per un quotidiano anche se locale però mi ha permesso a quel punto di avere anche un accesso diverso a questa storia dopo del film ho cominciato a sentire un po' di persone un po' di colleghi che si occupavano di questa cosa ho cominciato a leggere qualcosa su internet perché la mia passione nasce parallelamente anche a internet eravamo i primi anni in cui c'era la possibilità di navigare e in quell'occasione ho conosciuto un esperto un tecnico che si occupava di periziare per conto della compagnia Itavia l'aereo e la conoscenza con lui Luigi Di Stefano si chiama mi ha permesso anche di avvicinarmi alle carte agli atti processuali e da lì nasce un interesse che poi è diventato anche una ragione quasi una ragione di vita dopo anni di ricerche sì mi sono fatto un'idea del chi studiando le carte insomma dieci anni di immersione negli atti dell'inchiesta che sono sterminati che sono praticamente immensi sono riuscito a individuare il contesto a ben focalizzare il contesto a capire chi ma forse non il perché ma chi chi certamente sì il muro di gomma nasce da un'intuizione di Andrea Purgatori che ne dà anche il titolo al film al film in chiesa l'unico film che è stato fatto serio sull'assaggiere gustica che ci abbia proprio un senso ha vinto dei premi e anche tuttora è di grande attualità questo film è un peccato che non si trovi a noleggio magari certamente è stato secondo me scalfito il muro di gomma era la rappresentazione delle domande che sbattevano contro un muro di gomma e tornavano indietro con la stessa trovare le porte chiuse non avere risposte dai governi il muro di gomma ha danneggiato l'attività non solo della magistratura dei giornalisti della politica sono andati tutti a sbattere contro questo muro in questa storia quindi sicuramente non siamo andati spesso e volentieri vicino alla verità in questa storia anche recentemente abbiamo saputo qualcosa in più però non non credo che sia ci sia la possibilità di abbatterlo questo muro di gomma ci sono cose molto più grandi che vanno oltre anche la nostra sovranità con la caduta di Gheddafi non so io posso dire l'ho anche scritto recentemente in un pezzo commentando le dichiarazioni di Romiti che era presidente della Fiat che parlava del MIG questo famoso MIG libico che cade sulla Sila poi magari avevo modo anche di spiegare quando e come ma Gheddafi vale la pena ripeterlo perché lui lo ripete da tanti anni e l'ha detto decine di volte anche in occasioni pubbliche lui nella vicenda di Ustica è vittima tanto e quanto il nostro paese se è vero che l'operazione che Priore il giudice Priore ha chiamato di polizia internazionale doveva servire a far fuori Gheddafi è anche vero che quella notte c'è stato un errore cioè doveva essere preso un aereo e ne è stato preso un altro quindi Gheddafi credo sappia bene chi è che gli ha teso questa imboscata sappiamo che c'era un volo da Tripoli a Varzavia sappiamo che quella notte certamente Gheddafi era in volo e si stava spostando c'erano i suoi MIG di scorta quindi probabilmente l'imboscata era per lui non era certamente per il 19 portava a bordo c'erano 81 cittadini italiani andavano chi in vacanza chi in ospedale chi a trovare i suoi familiari non c'era nessuno su quel volo che doveva essere motivare di tirarlo giù ecco tirarlo giù perché poi questa è una delle parole che è una delle prime parole che è stata detta un giornalista l'hanno tirato giù io sono uno di quelli che ha sempre ripetuto che la magistratura finora anche se c'è ancora un'inchiesta aperta della Procura di Roma scaturita dalle parole di Cossiga un'inchiesta che ha già partorito delle erogatorie internazionali controfirmate dal Ministro Alfano e che speriamo presto ci diranno se qualcuno risponderà a queste domande che per l'ennesima volta la nostra autorità giudiziaria ha posto ai nostri alleati certamente il governo italiano sa molto nel senso che pur non essendo pur non esistendo di fatto un segreto attorno a questa cosa perché il DISS recentemente il Dipartimento dell'Informazione ci ha detto che su Ustica non esistono atti di alcuna natura coperti dal segreto ma di fatto questo segreto esiste perché ciò che è avvenuto è avvenuto in un momento particolare per il nostro paese in un momento in cui il bacino del Mediterraneo più generale il Nord Africa la Libia i rapporti anche per la presenza degli americani erano abbastanza tesi quindi probabilmente se in questa vicenda c'è un segreto è un segreto che va al di là anche del nostro governo al di là della nostra sovranità un segreto Nato un segreto che comunque riguarda più soggetti insomma in questa vicenda vale la pena ricordarlo quella notte c'erano in volo aerei italiani ma ce ne erano americani ce ne erano certamente francesi c'erano portaerei sia in rada sia in navigazione c'era un Awax della Nato sull'Appennino Tosco Emiliano che registrò tutto e di quello che ha registrato quell'Awax noi non ne siamo mai venuti a conoscenza tutto questo poi quello che è avvenuto a Ustica quello che è avvenuto nel punto Condor che è la zona più buia dei nostri cieli andando verso il basso Tirreno è avvenuto sicuramente sotto l'occhio e sotto la copertura l'ombrello di copertura di numerosi salelli di spia non dimentichiamo insomma che il 1980 sicuramente i russi avevano interesse a osservare la sesta flotta americana che era a distanza a Napoli a guardarli quindi c'erano satelliti che vigilavano non ci dimentichiamo che nell'80 come oggi in Italia è disseminata di basi americani per la sorveglianza elettronica per la sorveglianza radar insomma in Puglia c'era una base dell'NSA che probabilmente faceva anche questa attività di SIGINT cioè Signal Intelligence quindi insomma questo incidente è avvenuto sì in un punto buio ma anche un punto osservatissimo cioè la parte più interessante se è vero che il fatto che i MIG libici che sono l'aeromig di produzione libica di produzione russa andava a fare manutenzione nei Balcani a Bagnaluca utilizzando un corridoio che tagliava in diagonale la Calabria questo era un tacito accordo tra la Libia e l'Italia noi addestravamo anche i loro piloti in Sardegna quindi questo fatto che i MIG di Gheddafi sorvolavano gli americani non è che gli andava tanto giù a loro ci sono nelle settimane nei mesi che precedono la Stagione Justica ci sono delle tensioni diplomatiche fortissime in questo senso gli americani che dicono in ambienti diplomatiche dicono prima o poi glielo tiriamo giù uno di questi MIG quindi il 19 si trova in un punto in una zona in un momento sbagliato certamente e comunque al centro di uno scenario complesso non è assolutamente vero quello che i nostri governi hanno ripetuto e qualcuno lo ripete anche tuttora che attorno al 19 quella sera non c'era alcuna battaglia non c'era niente la Nato dice che c'erano degli aerei militari sappiamo con certezza che c'erano delle porta aerei come ho ripetuto ci sono tracce di caccia che atterrano sul pelo dell'acqua quindi probabilmente c'era una porta aerei al nord della Sordegna questo è un dato di fatto a meno che questi aerei non siano tutti caduti in mare abbiamo un MIG trovato sulla Sila l'aeronautica dice il 18 luglio ma va detto che il pilota di questo MIG il colpo di questo pilota era in avanzato stato di composizione ci sono delle testimonianze di persone che dicono di aver piantonato questo MIG prima del 18 luglio c'è la CIA che se ne interessa prima del 18 luglio ci sono decine e decine di servizi occidentali che vanno a chiedere informazioni a visionare questo coso insomma il MIG è Spadolini disse ai giornalisti trovate la verità sul MIG e avrete anche la verità sussica insomma quindi io credo che ci sia ancora margine per trovare la verità è un'azione che non può fare la magistratura perché la magistratura credo che ha fatto quanto era possibile non è stato celebrato un processo sulla strage usi è stato celebrato un processo alla nostra aeronautica che ne è uscita secondo me anche con le ossa rotte perché l'aeronautica militare italiana non ha detto o se l'ha detto l'ha detto male e poi sono avvenute tra l'altro nelle loro basi in giro per l'Italia delle cose assurde sono state fatte delle manemomissioni dei depistaggi sono stati tagliati con la lametta delle intere pagine dei registri sono state manomesse le registrazioni basta pensare quello che è avvenuto a Marzala a Licola nei centri radar del sud quelli che direttamente potevano vedere quanto era avvenuto nel punto condore loro lì insomma ci hanno raccontato che c'era in corso un'esercitazione che ha coperto il traffico reale quindi c'era un videogioco diciamo in corso e loro non vedevano non vedevano quello che avveniva insomma è impensabile che il MIG per esempio se è caduto la notte di Ustica è impensabile che abbia bucato il cielo italiano e nessuno se ne è accorto quella notte tra l'altro c'era in corso una grossa esercitazione internazionale nelle acque del Mediterraneo quindi insomma questo MIG che attraversa indisturbato arriva lì finisce la benzina e finisce sopra la sila insomma tra l'altro è noto che e di questo ce ne sono ampie tracce nelle carte nelle poche carte sopravvissute del centro sismi di Verona che ci raccontano insomma di questo fatto che noi avevamo la moglie americana e l'amante libica quindi il nostro governo se la faceva tanto e quanto in questo momento con Gheddafi addestravamo i loro piloti a decimo manno in Sardegna c'erano insomma dei rapporti delle relazioni militari abbastanza intense e questa cosa io lo ripeto non stava bene ai nostri alleati non stava bene innanzitutto agli americani credo che l'azione più forte che vada fatta tuttora è un'azione diplomatica cioè vanno sollecitati la Francia gli Stati Uniti e la Francia in particolare a dire quello che sanno perché probabilmente loro ne sanno addirittura più di noi a mio avviso nel senso che quella notte loro c'erano e per quanto riguarda la notizia militare italiana io l'ho ripetuto recentemente il sottosegretario Giovanardi in un pezzo sull'Espresso che non so se sono parole vere perché non era un virgolettato dice che sul 19 c'era una bomba che ormai è tacito che sia accaduto questo non dice chi l'ha messa questa bomba perché le bombe di solito si rivendicano quando si fa un attentato su un aereo si rivendica non l'ho ancora detto dobbiamo ricordare a Giovanardi un fatto che ci sono decine e decine di perizie che dicono il contrario di quello che lui afferma devo dire anche che ci sono dei riscontri che non possiamo non tenerne conto il 19 è partito con due ore di ritardo da Bologna parte con due ore di ritardo che accumula durante i vari spostamenti lungo tutto lo stivale quando arriva a Bologna ha due ore di ritardo parte alle 20.08 questa bomba quando è stata messa sull'aereo mobile quando era a Bologna sarebbe scoppiata mentre l'aereo era fermo ancora a imbarcare i passeggeri invece scoppia dopo quasi un'ora di tragitto quasi alla fine perché quando perdiamo le tracce del 19 alle 20.59 siamo a 13 14 15 minuti dall'atteraggio a punta a rice quindi scoppia alla fine come fa una bomba a scoppiare c'è un kamikaze a bordo c'è un timer altimetrico cioè è arrivata a una certa altezza esplode insomma tra l'altro se questa bomba è vero che è stata messa all'interno della toilette del 19 giova a ricordare a Giovanardi e a chi persegue questa stramba ricostruzione dei fatti che il lavabo del 19 non è stato neanche scalfito è stata recuperata una tavoletta del water intatta il bagno era una delle parti diciamo meno danneggiate nella parete del bagno c'è